Adesso fa vedere lì davanti Tal Lamine Junior, l'attaccante senegalese arrivato proprio qualche tempo fa, intanto dentro Tal! Eccolo qui che timbra il cartellino! Terzo gol, una sentenza lì davanti Tal, mette all'angolo 1-0 giallorosso, la firma è sempre di Tal che non si ferma più. L'avevamo detto, questo è un giocatore veramente importante, un ragazzo con qualità notevoli, fisicamente ha uno strapotere eccezionale, sul rimpallo una palla filtrante dentro.